Si chiama Quale città, identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza, l'evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso e che si terrà il prossimo 23 luglio all'Aurum di Pescara. Quale città sarà una giornata dedicata a immaginare e a ragionare sulla vocazione, le funzioni ed il destino delle città ed è stata concepita anche come una prima risposta alle nuove esigenze emerse nel corso della pandemia che ha completamente rivoluzionato il modo di vivere e le aspettative dei cittadini. Tante le personalità presenti fra cui il presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. È necessario tornare a riflettere sulla città. Il titolo di questo grande evento è appunto Quale città? Riflettendo su come la città deve riorganizzarsi per rispondere ai bisogni nuovi che hanno i cittadini. Quale deve essere l'identità della città perché abbiamo visto che si è creato il problema dello spazio, il problema dei rapporti, il problema delle funzioni e allora abbiamo pensato di creare un grande evento in collaborazione con l'università, con le riviste, con architetti, con intellettuali, con docenti universitari, con altissime personalità delle istituzioni, la presidente del senato, il ministro dell'economia e delle finanze, tantissime appunto personalità del mondo istituzionale per ragionare appunto su cosa sia necessario fare per assicurare le nuove funzioni alle città. La città è sempre di più la forma principale in cui vive l'uomo ma ne abbiamo conosciuto nuovi limiti. Nuovi limiti per noi significano anche nuove opportunità su cui bisogna confrontarsi, cioè bisogna far allenare il pensiero perché questo è un momento non solo di spendere risorse ma è anche e soprattutto un momento per pensare a nuove norme, a nuove forme organizzative che sappiano precorrere le esigenze perché poi una delle finalità delle classi dirigenti non è solo quello di rispondere oggi per oggi ai bisogni che i cittadini hanno ma anche auspicabilmente nel confronto con coloro che ragionano, che riflettono, che sanno intuire a quelli che saranno i bisogni di domani e per questo motivo c'è bisogno di occasioni lunghe di pensiero e quella di quale città è un cantiere che si apre il 23 di luglio e che conoscerà nuove e altre occasioni già a settembre, avremo un altro grande evento con il sindaco di Barcellona ma di questo poi parleremo meglio in altre occasioni. È solo per dire che questo è l'inizio di un percorso. Grazie.